Questo è Special House Museum Mr. Lorenzo Reglini di Geri Special House Museum Special House Museum Questo è Special House Museum Il programma itinerante della migliore house music A cavallo del terzo millennio Selezionata per voi da Mr. Lorenzo Reglini di Geri Special House Museum Mezz'ora di pura, raffinata ed energetica house Selection Esaltata dalle preziose falangi di Lorenzo Reglini Oh, baby I feelin' right The music sounds right out with you Love might bring us back together I feel so good I feelin' right The music sounds right out with you Love might bring us back together Love might bring us back together I feelin' right The music sounds right out with you Love might bring us back together I feel so good I feelin' right The music sounds right out with you Love might bring us back together I feelin' right out with you Love might bring us back together 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.